Oggi siamo nel mondo oscuro ragazzi, mi fa molto piacere farvi vedere questo mazzo straordinario, sono usciti nuovi supporti come il mitico Ghenta a causa dello Structure Deck, mi fa benissimo, questo proprio al cuore ed è straordinario avere questi signorini, abbiamo chiaramente i soliti supporti che sappiamo, c'è lo Snow Secret, lo so benissimo, c'è il Brawl Ultimate, questo è un mazzo anche molto realizzabile, c'è uno Structure Deck che egli stesso costa tantissimo, insomma tanta tanta roba. Oggi vediamo come andarlo a giocare alla grande e come esprimerlo ai massimi livelli, perché sì, tante persone lo giocano, lo giocano bene, è un mazzo che si è anche molto viralizzato e mi fa molto molto piacere, ce l'abbiamo ecco per l'appunto no? E con questo messaggio la regia mi mostra che dobbiamo partire, allora cominciamo, sono Alto Show, iscriviti, clicca sulla campanellina e allora let's go! I portali del mondo scuro, a mio avviso ancora, a parte Tana dell'Oscurità e forse se vogliamo Recphobia, una delle carte più belle Field, vado a giù, vado a mandare al cimitero Ghenta, vado a mettere Brawl, effetto di Brawl, vado a bannare e quindi vado a mandare Rainbue il SovraRe, effetto di SovraRe, effetto di Ghenta che è stato bannato, rientra sul terreno, quindi vado a pescare, ecco Grafa. E a questo punto vado a far entrare Rainbue, andando a rimettere nella mia mano Ghenta, questo è uno dei supporti più belli e più forti, perché come vedete c'è tanta sinergia con i mostri e con il terreno, a questo punto fascino dell'Oscurità, pesco due a fatto che io bandisca, bannisca, come dirsi voi, un mostro scurità mi fa benissimo, ok? A questo punto Baratto che va benissimo stavolta, vedete abbiamo cominciato a pescare anche i Danger, perché ovviamente la sinergia con i mostri pericolo è molto importante, se qualcuno non li conosce sono mostri che devono essere gecchinati dall'avversario dopo essere stati liberati da noi. Quindi se azzecca, ecco, vanno al cimitero ed appregano degli effetti che fanno male all'avversario, altrimenti come in questo caso andiamo a scartare la carta che l'avversario ha indicato e lo andiamo a mettere sul terreno. Guardate, livello 8, livello 8, livello 3, ma ecco, un livello 4, abbiamo pescato, come vedete c'è molta ecletticità, eclettismo sul terreno, entro a Grafa finalmente a fari del mondo scuro, guardate peschiamo, andiamo al cimitero e quindi evochiamo, ricicliamo mostri. E' un macello, ragazzi, abbiamo al cimitero Snow, Snow è una delle carte più forti del mazzo, se non la più forte del mazzo, semplicemente per la solita dannatissima clausola, in verità appartenente ad un tempo molto antico di Yu-Gi-Oh, secondo cui non applica il suo effetto once per turn. Un macello, ragazzi, puoi utilizzarlo sempre, ok? Abbiamo quindi archivi, questa è una carta che normalmente dovrebbe essere utilizzata in start game, ma anche in mid game, comunque in questo caso va assolutamente bene. Ci fa scartare mostri in mondo scuro, fa pompare i nostri mostri Dark World sul terreno, addirittura ci fa pescare due carte, se l'avversario grazie ad una sua carta ci fa scartare un demon, un macello baratto, vedete noi scartiamo, mostri che al cimitero applicheranno effetti per estendere il nostro terreno, andiamo a aggiungere carta alla mano, quindi acquisiamo risorse, tra cui, eccola qua. Con questa normalmente tu vinci la partita, solamente con questa, quindi non te dico le altre carte che noi abbiamo, entra un altro sovra-ray, guardate, è già tre livelli otto, ok, archivi, vado a mandare al cimitero bro, vado a pompare i miei mostri, quindi effetto sia di bro, sia di archivi, vado a pescare, in più mando ancora sovra-ray per rievocarlo ancora, effetto di sovra-ray, aggiungo grafa, guardate, la nostra mano come non si sia assolutamente scaricata, con le precedenti build adesso già eravamo alla frutta, adesso invece tanta roba, no? Distrugge carte tranquillamente, manda al cimitero, perché distrugge carte così forte? Perché al cimitero si applicano tantissimi effetti in mondo scuro, quindi uno, due, tre addirittura, benissimo, quindi, sovra-ray che entra sul terreno, e quindi Ghenta che entra sul terreno dell'avversario, e quindi comincia ad applicare la combo endrip, a me piace la combo endrip, per carità però, mi piace di più spammare sul terreno e far fuori l'avversario, molto molto meglio, andiamo ad aggiungere Silva nella nostra mano, vedete, abbiamo addirittura evocato un mostro dell'avversario, però, attenzione, perché vi spiego tutto, le mosse sono andate avanti in maniera un po' più centrifugante, non c'è nessun problema, allora, con tanti livelli 8, io ho composto degli Xyz, e quindi ovviamente Arbinger, per andare a negare carte magie, oppure effetti di carte magie terreno già attivate, come per esempio Diagram, se eravamo contro Tana stesso, poi ho messo di Ingirsu, con il quale, soprattutto in midgame, avremmo potuto, in un'altra situazione, in un altro contesto, andare a sendare al cimitero un mostro dell'avversario, ma soprattutto è una protezione importante, perché ogni volta che stanno per essere distrutti, una volta per turno le nostre carte, noi possiamo staccare un materiale, non succede nulla, e poi ovviamente ho utilizzato la bellissima fusione, eccola qui Grafasorano del Mondo Oscuro, che è una negazione perpetua di un effetto dell'avversario, che va a diventare l'avversario scarto una carta a caso dalla mano, e quindi tanta roba, ragazzi, no? Cioè, guardate, ditemi se è poco, siamo ancora al nostro primo turno, eh, siamo ancora al nostro primo turno, guardate il log, guardate quante mosse che abbiamo messo sul terreno, tanta roba, veramente tanta roba, allora, ho mandato al cimitero Chupacabra, effetto di Chupacabra, sono andato a scartare quindi Snow, quindi effetto di nuovo di Snow l'abbiamo utilizzato per ben due volte, ragazzi, eh, andiamo a mettere affari del Mondo Oscuro, e quindi affari del Mondo Oscuro, peschiamo la seconda risucchiabilità, ragazzi, eh, nel caso l'avversario avesse il simpaticissimo di Fone Spaziale Mistico, piuttosto che Ciclone, piuttosto che Tempesta Potente Rivolvere, piuttosto che tutto, allora andiamo a scartare Silva, che cosa succede una volta scartato, rientra questa Ultimate, è veramente, ragazzi, bellissima, costosissima, com'è giusto che sia, tutto il mazzo è costosissimo, com'è giusto che sia, ma ragazzi, come sempre vi dico, la qualità si paga, guardate qui, la Maserati è una macchina che costa, cioè, pensate, che tristezza se un mazzo così bello, così forte, costasse poco, cioè, la Ferrari, ok, la Ferrari costa 2000 euro, non pensiamoci, allora, abbiamo, finiamo il turno con una controtrappola, un risucchiabilità, la seconda risucchiabilità che non volevo mettere sul terreno nel caso l'avversario avesse lo spolverino dell'ARPA del cuore delle carte, quindi poi sempre ancora un altro colpo molto scuro, e, beh, beh, tre belle negazioni, una protezione, alla fine non ce l'ho fatto, ho messo il secondo risucchiabilità, perdonatemi, allora, l'avversario come va a giocare? Buconero, giustamente, noi chiaramente, come ben sai, giochiamo contro avversari che non se le mandano a dire, e quindi, non mandandocela a dire, facendoci le poste sotto scuola, ci vorrebbero far fuori Buconero, tranquillamente, Arbinger, ho negato, lui, anche l'effetto, secondo cui, staccando un materiale, posso rivolgere attacchi di qualsiasi mostro direttamente a lui, poi, già la della dualità, non volevo interromperla, non c'era problema, l'avversario ha messo Yosenjukama 1, Yosenjukama 2, a questo punto, per mantenerli sul terreno e per fare un push di damage molto più alto, ho messo il risucchiabilità, con cui, ok, questa carta devi saperla utilizzare, attenzione, questa carta potrebbe anche essere un macello, se non sai utilizzarla, devi utilizzarla sempre quando sei in questi momenti, quando hai tutti i boss sul terreno, tutti i bestioni che sono molto forti, capisci bene che contro mazzi come Runic, piuttosto che tiro la mensa, sì, anche quello, potremmo dire, piuttosto che, beh, forse cash tira, beh, sono comunque belli forti ed entrano special dalla mano, quindi, non è molto, ma contro tanti mazzi, ma con lo stesso, cosa va a fare? Verga non può più utilizzare, cioè, tanta roba, veramente, tanta roba, Mikanko, non fa più nulla, sono tutti mostri con zero, gli attacchi, è un macello, allora, l'avversario vado ad attaccare, noi avremmo voluto utilizzare l'effetto di Harbinger, ma l'ho utilizzato solamente per staccare sovrare, per farlo rientrare sul terreno, l'avversario giustamente riesce a riprendersi su Yosenjuk, non fa nulla, gli Yosenjuk vorrebbero tornare nella mano, ma non riescono, a questo punto, andiamo a mandare nella mano Silva per far entrare sovrare che io avevo staccato con Harbinger, quindi archivio mandato al cimitero Silva, con l'effetto di Silva mandato al cimitero non solo va a rientrare, ma con l'effetto di archivio vado a pescare anche due carte, quindi veramente troppo forte, si va anche a potenziare, tra l'altro Grafa è andata a 4000, e a questo punto che cosa direi, vado al fesso, attenzione, 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 l'avversario mi va ad utilizzare una carta molto simpatica, come vi ho già detto, noi siamo contro mazzi forti, noi mettiamo sempre i nostri mazzi contro dei cattivoni, e questo penso che attesti completamente ciò che dico, allora, forza riflessa, tutti in difesa, benissimo, a questo punto, cosa va a succedere? Il gioco si comincia a bloccare, perché sono veramente tanti input, abbiamo avvocato veramente tanti mostri, deve andare a gestire tanto, l'avversario mette Exiton, molto forte, attaccando avrebbe distrutto dei mostri, ma assolutamente non va a succedere nulla, provo addirittura ad attaccarci con Yosenju, perché Silva coperto non aveva 1700, si è pompato nel 1700, l'avversario mette Macrocosmo, e questa è una grande carta, perché i mostri al cimitero Dark World, insomma, servono, allora, nessun problema, facciamo entrare Grafa senza problemi, utilizziamo l'effetto dei nostri amichetti, comunque andiamo a bannare, mandiamo bannato Bigfoot, che solo perché è scartato va a distruggere una scoperta sul terreno, andiamo a distruggere Macrocosmo, quindi effetto qui ancora del nostro bellissimo amico Mondoscuro, facciamolo vedere l'ascesa del Mondoscuro, con cui andiamo a rievocare, fusione, il nostro amichetto qui, vedete l'avversario, anche con Macrocosmo, anche con Forza Riflessa, anche con tutto, non è comunque riuscito a batterci, e questa è tanta roba, no? Se ci andiamo a pensare comunque entra Bigfoot, andiamo a pescare, la nostra mano si continua a rimpinguare, rientra Sovra Re, eh, Forza Riflessa, Buco Nero, carte varie, cavoli, mazio, Kedra Gloobion, entra anche Mothman, eh, Butterface, è un macello ragazzi, attacchiamo, distruggiamo Exidon, distruggiamo Yosan, giocamo, l'avversario ci ha provato in qualche modo, eh, ma la Solfa non cambia, rimaniamo noi, avendo protetto anche molto bene le risorse, e lui con una sola carta nella mano va a mettere settato, dovevamo stare molto attenti a questa, perché avevamo visto che, insomma, il suo mazzo, Ecco, facuità della vanità, insomma, poteva andare anche peggio, a questo punto non rimaneva altro che attaccare, 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 attaccare e far molto male all'avversario A me piace molto questo mazzo perché è granitico, perché estende tanto, ma perché soprattutto mette dei boss molto forti sul terreno e rappresenta una potenza di fuoco incredibile Questi sono i nostri mazzi, questo, sembra quasi, questa è la nostra fede, questa è la nostra, ok, formule strane, religiose a parte Questa è la qualità che noi diamo, quindi, se vuoi giocare a Yu-Gi-Oh! in grande per essere il più bello e il più figo, far innamorare le tue avversarie e farle entrare nel tuo team, vabbè Ci siamo noi, ci sono i nostri mazzi, iscriviti, clicca sulla campanella e inattiva tutte le notifiche Ed eccoci qua, ci hai trovato, complimenti